Ciao amici Value Investors, in questo video vedremo come calcolare il valore intrinseco di un'azienda attraverso la formula del padre del Value Investing, Benjamin Graham. Questa è una formula che Graham ha esposto nel suo celebre libro L'investitore intelligente e nel libro questa formula viene usata per stimare il valore di alcune aziende growth che all'epoca della scrittura di questo libro andavano molto di moda e direi che la situazione non è cambiata molto a distanza di tanti decenni. Quindi insieme vedremo step by step come creare in un foglio Excel un modello di calcolo del valore intrinseco basato su questa formula di Graham e valuteremo anche qualche azienda reale, faremo qualche esempio. Quindi non perdetevi questo video. Prima di iniziare, mi raccomando, seguite il video fino alla fine perché farò delle considerazioni importanti sull'efficacia di questa formula e sulla reale storia che c'è dietro. Vi faccio vedere prima la formula e poi costruiamo insieme passo dopo passo il modello Excel. La formula è questa, dove V è il valore dell'azione che vogliamo trovare, IPS è ovviamente l'utile per azione, 8,5 è il PE che secondo Graham si può assegnare ad un'azienda con crescita 0, G è il tasso di crescita stimato degli utili per azione dell'azienda sul lungo periodo, quindi 7-10 anni, 4,4 è il rendimento medio dei high grade corporate bonds AAA e infine al denominatore abbiamo l'attuale rendimento dei corporate bonds AAA. Quindi andiamo a mettere in Excel questi dati. Allora eccoci qua ragazzi, come potete vedere ho messo anche in evidenza la formula di Graham in modo da poterla seguire passo dopo passo. Allora iniziamo inserendo il ticker symbol e visto che Graham ha utilizzato questa formula per stimare il valore di azioni growth, l'azione growth del momento è sicuramente NVIDIA con il ticker NVIDIA. Poi andiamo avanti, ci serve l'utile per azione che nel caso di NVIDIA è 1,75. Poi abbiamo bisogno del PE no growth, cioè il PE che ci dice di essere 8,5. Poi ci serve il growth rate stimato da noi, cioè quanto pensiamo che sul lungo termine 7-5 anni possa crescere annualmente come utile per azione NVIDIA. E io ho stimato 30% all'anno. Ora non andiamo a sindacare sul fatto se sto numero è troppo alto o troppo basso, è solamente un esempio diciamo a fini didattici ecco. Poi fate le vostre stime e ragionamenti. Poi abbiamo bisogno di 2 volte tasso di crescita, cioè questo del 30%, quindi qua inseriamo 2 perché ci servirà dopo per completare la formula. E poi ci serve l'average yield bond AAA. Average di lungo periodo, quindi che gram nella formula ci dice essere 4,4. E adesso invece si serve il rendimento del corporate bond AAA corrente che potete trovare su siti tipo Ychart ad esempio, comunque potete fare una cerca su Google. e al momento è di 4,67. Ora possiamo passare a calcolare il valore intrinseco. Quindi la formula è uguale, aperta parentesi, come vediamo qua l'utile operazione lo dobbiamo moltiplicare, aperta parentesi, 8,5 più, apriamo un'altra parentesi, 2G, quindi 2 moltiplicato per il growth rate, chiudiamo due parentesi e moltiplichiamo tutto per 4,4. Chiudiamo ancora una parentesi e tutto il numeratore dobbiamo dividerlo, tutto il numeratore dividerlo per 4,67. E ci viene fuori 112,94 dollari che possiamo andare a mettere in formato dollaro statunitense. Adesso ci serve il prezzo corrente, cioè a quanto viene scambiata adesso Nvidia. E per averlo sempre aggiornato basta usare la funzione di Google Finance, quindi selezioniamo il ticker, punto e virgola, tra virgolette, scriviamo price, chiudiamo le virgolette, chiudiamo la parentesi e il prezzo corrente è 3,89. Ok, quindi andiamo un po' a centrare qua questi dati, mettiamo magari in grassetti Nvidia. Quindi il modello, la formula di Graham ci dice che il valore intrinseco è di 113 e il prezzo corrente però è di 3,90, quindi Nvidia secondo questo modello, ovviamente non è detto che sia così, secondo questo modello è sopravvalutata e anche di parecchio. Quindi i dati che cambiano, tutto rimane fermo, i dati che cambiano sono l'utile per azione, il tasso di crescita che dobbiamo stimare e poi il rendimento dei bond corporate AAA. Ho provato a testare questa formula per altre aziende per capirne la bontà, l'affidabilità per vedere un po' se vengono fuori numeri razionali diciamo e l'ho fatto con Tesla, quindi ho cambiato chiaramente l'utile per azione, ho stimato come tasso di crescita annuo per il lungo termine un 20% annuo e viene fuori come valore intrinseco è 162 e il prezzo attuale è 193, quindi anche in questo caso abbiamo un'azione sopravvalutata. Ho provato con Alibaba dove ho inserito un tasso di crescita più basso del 15% e il valore intrinseco che viene fuori è 134 contro gli 81 dollari a cui è quotata l'azienda oggi, quindi è sottovalutata Alibaba. E infine ho provato anche con un'azienda no growth ma comunque molto nota che è Coca-Cola e il valore che viene fuori con un tasso di crescita stimato del 10% anno è di 61 dollari quindi possiamo dire che è allineato con il suo prezzo corrente, quindi è a fair value Coca-Cola secondo questa formula, forse il 10% è troppo alto, vogliamo provare un 7% anno come tasso di crescita, in questo caso sarebbe invece sopravvalutata Coca-Cola. Voi comunque dovete inserire le vostre stime e sapendo che Graham con questa formula voleva proprio mostrare come le aspettative degli analisti, spesso troppo alte su quella che poteva essere la crescita annua dell'azienda, potevano portare poi a valori completamente molto più bassi rispetto a quelli che si aspettavano e quindi a perdere molti molti soldi. Quindi la morale è non fate proiezioni di crescita troppo elevate, cercate di essere super conservativi e di avere un elevato margine di sicurezza se non volete rimetterci le penne. Allora ragazzi facciamo le considerazioni che vi avevo anticipato all'inizio, non valutate le aziende basandovi esclusivamente su questa formula perché lo stesso Graham nella versione originale del libro dell'investitore intelligente nella pagina in cui illustrava questa formula aveva lasciato una nota dicendo che lui non raccomandava agli investitori di usare questa formula e che l'aveva creata solo a scopi diciamo didattici per illustrare quali fossero le aspettative di crescita degli analisti su alcune aziende growth dell'epoca e quindi il valore futuro che potevano avere queste aziende e come molte di queste profezie vengono poi deluse. Il problema è che nelle ristampe recenti questa nota a piedi pagina è stata rimossa dalla sua posizione originale e messa nelle ultime pagine del libro dove pochissimi lettori guardano e quindi molti investitori oggi guardando quella formula l'hanno vista come la soluzione ai loro problemi di valutazione aziendale. Quindi non è che adesso vi mettete a comprare azioni basandovi solo sul prezzo che vi restituisce questa formula però la domanda è una formula campata in aria cioè Gram ha messo giù 3-4 numeri e si è inventato questa formula solo per impressionare il lettore e darsi aria da professore? Ovviamente no ma non esistono comunque formule magiche negli investimenti non potete pretendere di inserire 2-3 dati in una formula e avere la soluzione. Dovete considerare tutto il contesto dovete analizzare il bilancio dell'azienda, il modello di business, la concorrenza eccetera e potete usare questa formula che abbiamo visto se volete come punto di partenza da integrare poi con altri metodi di valutazione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa formula di Gram se la conoscevate scrivetelo nei commenti, un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide